In bici da Celle di Bulgaria fino al Mar Nero attraverso la Bulgaria per valorizzare e far conoscere la propria terra e l'impresa di quattro ciclisti campani che ha preso il via ieri mattina a Sofia, la capitale della Bulgaria, percorreranno 930 km visitando le città più importanti della Bulgaria incontrando autorità locali ed imprenditori turistici per presentare le bellezze di Celle. Colleghiamoci in diretta con uno degli organizzatori e dei ciclisti che stanno affrontando questa bella traversata, Raffaele Carelli. Buon pomeriggio Raffaele. Ciao Vito, oggi la tappa ci porterà a Dospat dopo 169 km, siamo in pausa, a pranzo siamo quasi a metà della tappa di oggi, il gruppo sta bene, il morale è alto, è una tappa da definire di alta montagna oggi con oltre 3.000 metri di dislivello. Ieri dopo la partenza da Sofia siamo stati accolti all'arrivo a Simitli dalla delegazione comunale alla presenza del vice sindaco e abbiamo avuto uno scambio di battute su Celle e sicuramente saranno prossimi ospiti nella nostra comunità.